Bene ragazzi, allora, gettoni CNK di... di Tecni. Allora, l'incubo di CNK sta per finire, quest'incubo di CNK sta per finire, davvero. Sta per finire, sono gli ultimi, poi basta, per fortuna. Poi andiamo solo ad fare le coppe Gemma e la reliquia di Iperstrada Galattica. Poi fine, 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 davvero fine. Mamma mia, questi qua sono i più tremendi però ragazzi, sono i più tremendi all'assemblaggio, eccoci. Allora, cominciamo con l'ultimo rosso, l'ultimo gettone rosso, vai. Allora, l'ultimo gettone rosso, l'ultimo gettone rosso è assemblaggio, ed è un po' difficile da fare. Dai, ma allora, ecco che comincia subito, mamma mia, non le prende proprio. Oh, sei lì che vai davanti alla lettera? No, devi all'ultimo secondo... Eh, la N è qui. Ma cosa? No, io non basta però, non è possibile! Madonna! Ma sempre, le accerchia! Ste lettere di merda, le accerchia, le accerchia, le accerchia, oh, non le prende proprio. Gli fa il 160 proprio, eh, gli fa un 160 preciso preciso, ma non le prende, oh. Sì, vabbè, qui però, questi comandi di merda, ora veramente, guarda, sto arrivando alla fine della sopportazione, sono arrivato proprio al limite della sopportazione, eh, questi comandi di merda, mamma mia. Cioè, non si può fare una derapata o un'atterrata, certo, schizza, proprio in una... Non, non va, non... Eh, vai. Cioè, finisci sempre contro un muro, tanto qui, poi, è così. Ah, bene, un'altra maschera, eh, dai, allora, la N, devo cercare di prendere la N, cercare di prendere la N, allora, vediamo, dai, c'ho un altro giro, eh, se non la prendo. Eh, ora non prendi la scorciatoria, eh, la traiettoria era giusta, ovviamente, però la scorciatoria non la prendi, vero, bastardo? Ti piace proprio farmi perdere i cnk, vero, bastardo? Mamma mia, devo fare sempre due tentativi, vero, bastardo? Mamma mia, oh! Cnk avvenuti al primo tentativo, non... Non me li ricordo proprio, non me li ricordo proprio qui, eh. Dai, che palle, però, eh. Allora, andiamo in frenesia, dai. Sì, però, ragazzi, c'è la nota. Non è possibile, sta kappa, cioè, scorciatoria, adesso prendere bene, no! Stavolta, ora, invece, no! O non la prende, o fa il 160 accanto alla lettera, mamma mia, oh! 160, 180, quello che è, mamma mia, 180, sì, 180, credo, no, è 160, vabbè. Eh, ovviamente, dietro noi, crunch, così proprio pronti a perdere all'ultimo secondo, guarda, madonna, avere l'avversario è difficile. Vai, N, ok, ora dobbiamo vincere, ma... Proviamo un attimo a... Anzi, tu colpisci la cassa a te, bravo, così non ti prendono a te. No, bastardo! Mi rimette dove l'indietro stavolta, eh? Mamma mia, guarda, sta cosa dell'avanti indietro lo volcati, proprio... Dove gli fa comodo a lui, eh, proprio. I tuoi mie fulmini, guarda, ti farebbe comodo ripetere il salto. Sì, ok, ma tutte io, però, ma qualcuno le vuole colpire al posto mio, eh? Però, insomma, veramente, dai? Eh, ormai, ormai ho perso, ormai ho perso, eh, ormai ho perso, cioè, le lettere le ho prese, ma ormai ho perso. Grazie, madonna, continua, ma cosa fa... Non fa una cosa di quello che gli dico. Dai, riproviamoci, su. Riprovo, ho capito, però, cioè, non fa una cosa di quello che gli dico. Madonna, le... gli oggetti rilascio, proprio, non li prende nessuno. Tu, il giocatore, sei l'unico sfigato nel quale puoi incappare in ste cose, eh. Madonna, guardate, oh, ma porca di una puttana di quella puttana, eh. Madonna, vai comando, qui fanno sempre schifo. Dai, N, ok, hai preso le lettere a tutti e due i giri. C'è tutte le prime due lettere al primo giro, dai. Tanto non mi può mai venire al primo alternativo. Beh, hai capito, dai. Allora, forza, adesso qui c'è la cappa. No, bastardo! Bastardo! Ma la vuoi finire? Un attimo, ma se io vado indietro qua... Ecco, almeno così me la fai prendere. Vai, ora ho due giri, ho tutto il resto della gara per... ...per recuperare. Però, eh, che palle, eh, davvero. Cioè, madonna, oh, non fa una, non ne fa una di quello che gli dici. Ma non mi dare il missile, che poi, mamma mia. Dai, è il settimo, ora è il settimo, mamma mia, dai, però... Ce la farò? Spero di sì a recuperarli tutti, mamma mia, dai. Ma ancora il missile, ma la finisci? Non lo vedi che ho crunch davanti? Cosa me ne faccio nel missile? Ma proprio, guarda, non... Gioco... Ma dai, bastardo, ma... Punto e a capo, punto e a capo. Oh, madonna, eh. Cioè, ma che bastardo! Dai, torna... Ma, eh, vabbè, il tornado ho capito, dai, su. Sono soltanto sesto, eh. Ah, tornado, vai, beccatene un altro. Vai, ecco, un altro tornado, vai. Dai, ma dai, Gingo, dai, dov'è? Cioè, già... No, vabbè, però non è giusto. Dai, questi possono... Ma questi finiscono, possono... Madonna, basta, ma sono sempre due passi dietro che... Ma come faccio io? Dai, però, basta, basta! Ma avete rotto! Cioè, guardate, l'ultimo giro ancora non ho recuperato nessuno. Non si decide neanche a darmi un oggetto decente, poi. Sempre le merda che mi dà. Ora, scorciatoia, ti prego, dai! Niente ancora! Basta! Ma un aiuto, accidenti! Porca troia, però, dai! Ma ci sto mettendo tutto me stesso! La scorciatoia com'è? La prendevo sempre! Ora che mi seguirete, niente! Dai! Però! Cioè, mi ha schiacciato sebbene io passassi al lato, no? Veramente, guarda, eh! Allora, andavo tutta a puttare negli ultimi due secondi qua, perché c'era una palla elettrica che ovviamente non colpisce nessuno. Io sono l'unico che... Cioè, tu il giocatore sei l'unico che deve prendere le cose, ma... Madonna, ma cosa fai? Ancora, guarda, si mette, porca troia, dove... Proprio, sembra far soppassare gli altri, eh! Dai, 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 ti prego! Primo! Oh, l'abbiamo vinto! Madonna, guarda, oh! Alla fine l'ho vinto! Alla fine l'abbiamo vinto, oh! Bene, gettone assegnato! Eh, che palle, eh! Mamma mia, oh! Ne va una! Non ne va bene una qui, eh! Non ne va bene una! Mamma mia! La scorciatoia! Cioè, ma la prendo sempre? No, ora misteriosamente è impossibile da prendere, eh! Va bene, ragazzi! Per questo episodio è tutto! Oramai stiamo facendo un collezionabile a video, ma... Io ve l'avevo detto che sarebbe finita così! Sarebbe finita con un collezionabile a video negli ultimi episodi! Mamma mia! No, queste meccaniche sono fatte male! Cioè, gli avversari che sono sempre gli abiti e si te le trasportano! Ma cos'è? Eh, ma è uno schifo! Non mi significa niente, poi! Allora, adesso andiamo a fare il vicolo degli androidi! Dai, dove è il vicolo degli androidi? Eccola là, sul soffitto! Oddio, qui a Tecni non si capisce qual è il soffitto, qual è la cosa normale, perché sembra tutto sempre... Per bene, allora, bene ragazzi, dai! Per questo episodio è tutto! Noi ci vediamo alla prossima col CNK di Vicolo Androidi! Ciao!